Monsignor Roberto Amadei, tanti articoli, tanti pezzi, come si suol dire in gergo tecnico, sono stati scritti su di lui, ma bisogna ricordare e sottolineare che Monsignor Roberto Amadei è stato anche un grande storico e una persona a quale piaceva molto scrivere. Sì, infatti, se dovessi sintetizzare la sua azione episcopale, penso che sia, ha espresso ogni giorno, un grandissimo amore alla Chiesa Bergamasca, sia quel che era Bergamasco, per cui più radicato nella nostra storia, ma anche ovviamente come vescovo, con ogni vescovo, sposa alla Dioce, sia in cui affidata. E forse questo amore è derivato anche dai suoi studi storici, che ha cominciato da giovanissimo, studi storici fatti molto bene, ripresi anche a livello non solo locale, anzi, oserei dire che non c'è ricerca storica, economica, addirittura, o sociale, che prescinda dalla bibliografia di Roberto Amadei. Anzi, è citato anche su pubblicazioni nazionali, il famoso storico gesuita Giacomo Martina, con cui una dè fece la tesi sui preti di Bergamasca e il risorgimento, ha ripreso con i passi, in un terzo volume della sua collana, che è tra i migliori in circolazione. Per cui penso che amore alla storia, e poi l'abbia calata anche nell'amore come prete verso la comunità, e soprattutto diventato vescovo. Comunque penso che proprio la sua azione si potrà impolverare tutto, tranne certo di non essere stato un vescovo che ha amato la sua chiesa. Un vescovo amato e un vescovo anche contestato, Monsignor Amadei, non è stato un episcopato semplice? Sì, infatti, anche perché i tempi sono cambiati tantissimo. Anzi, io penso che la sintesi storica è molto prematura tracciarla, però oso tracciarla. In pratica, Amadei ha avuto il coraggio, per la prima volta nella storia recente della Chiesa Bergamasca, di ammettere che una società cristiana bergamasca era ormai dissolta. Mi è rimasto impresso una frase che disse un po' di anni fa, che diceva che la società e la terra bergamasca erano realtà terremotate. C'è un aggettivo molto forte, però penso che abbia colto nel segno. Io penso che già un vescovo, per giunta bergamasco, a dover ammettere che la giocosi di Bergamo, conosciuta a livello non solo nazionale, per la sua prestigio e tutto, che si ammetta questo, non è facile. Per cui penso che ci sarà ricordato come un vescovo che ha dato il massimo di se stesso alla Chiesa, in cui è nato, di cui era figlio. Anzi, mi viene in mente una frase, l'ho sempre detto, perché ero bergamasco, e l'espressione della base, a differenza di altre realtà, dove la Chiesa e la società si sono staccate magari già a fine Ottocento, passo tipo, penso, la bassa Lombarda. Mi ha sempre detto che Clorber Bergamasco è stimato perché era frutto proprio del figlio del popolo, o contadini, o operaio, così. Per cui penso che lui stesso sia figlio di questa, lui di famiglia operaia, e, essendo figlio di questa Chiesa, ha saputo portarla avanti, conoscerla e cercare ovviamente di investire il suo impegno. Lui stesso diceva che lui ha cercato di fare del suo meglio, ovviamente nessuno è perfetto su questa vita, per cui la storia di là del futuro, la sua azione è stata giusta così, però adesso non lo ricordiamo come uno che ha dato il massimo di se stesso, come amore alla Chiesa, la diocesi, le parrocchie e anche, diciamo, i lontani, che ha sempre ricordato. Non ha fatto certo, anzi, una delle sue frasi famose era non dobbiamo limitarci a curare quelli che vengono sempre in Chiesa, ci sono anche quelli fuori che ormai sono molto di più.